Oh regà ho trovato un'altra chiave, ne manca solo una Ne manca solo una, lo so, la sto cercando ovunque Cerca, cerca, cerca E lo so cerca, cerca, però Oh 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 c'è, è comparso Corvo Vai lì I run again in the night Scappa, scappa Aroba po' youtube, io sono Indy e benvenuti su Secret Neighbor Questo sarà un video abbastanza corto Ma abbastanza per mostrarvi le meccaniche del gioco Ma che cos'è questo Secret Neighbor? Beh, ricordate tutti Hello Neighbor Gioco horror fatto da ormai tutta YouTube Bene, sta per uscire il multiplayer e io ci ho messo le mani Beh, le regole sono semplici Bambini contro il vicino I bambini devono cercare dei chiavi per sbloccare la cantina Possono nascondersi negli armadi della casa, come anche il vicino Possono ferire e stordire il vicino lanciando oggetti E possono bloccare le porte usando oggetti come le siedie Beh, il vicino... Il vicino deve prendere tutti i bambini presenti Ed è in grado di imitare le sembienze di un altro giocatore Può usare varie trappole nella casa E viaggiare in giro per tutta la casa tramite dei passaggi segreti Per provare questa esperienza non sarò solo In compagnia sarò con Gabby16bit e Longgame Insieme ci sarà anche Redwolf, fratello di Gabby Quindi, bando ai convenevoli, iniziamo questo piccolo gameplay Salve a tutti, sono uno gamer e benvenuti su Secret Neighbor E oggi siamo in compagnia di Gabby, Redwolf e... Ma manca l'ultimo Dov'è? Indy? Indy? E DeLongame? No, beh, sono io DeLongame No, io sono DeLongame Sicuro? No, no, io... Posso te rinfare in faccia? Vedi, io sono te, tu sei me Io sono te, tu sei me E scusi, signor vero DeLongame Premati sulla tastiera, cortesemente Ok, ok Fatto Fatto Non sono convinto Fatto Aspetta, ti tiro un salito in testa Vedrà che ti trasforma Ah! 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 Come osate! Che vicino, corri! Come osate! Ah! Ok, veloce i cambi Sento Sento Eccoli là sotto Guardatelo Con l'ombra Con l'ombra inquietante Lo sento, lo sento Per una volta che chiedo qualcosa anch'io Dove si? No! No! Oh! Guarda Eccoli qui I miei tre porcelli No! I ragioni Ok, corri, corri Come osate? Aiuto! Come andate? Credo che sia giunto veramente il momento Come osate? Dobbiamo trovare le chiavi Dobbiamo trovare le chiavi Dobbiamo trovare sempre Veramente Perfetto Aspetta, Gabby Hai notato che si è aperta la porta mentre passavamo? Cavolo È vero! Vuol dire che sa dove siamo E ora so Ora vi ho divisi E ora vi ciro Sì, mi ha diviso Ci ha diviso, Gabby Eh, Gabby Ho trovato un'altra torcia Ho trovato un'altra torcia Si serve Oh no, ce la ce la rimane Hai due torce Con il l'ho cieco di brutto Ok, l'ho visto Ok, l'ho visto Ok, l'ho visto Gabby, Gabby Vieni qua Dove corri? Dove corri? Ok, allora io chiudo questa porta Così non vai Ok, trovata, trovata Trovata, trovata Trovata la chiave? Sì, sì No, no, non ho trovato chiave Ho trovato la banana Chiaramente la banana Ok, ok, ragazzi Venite nella sala di compleanno Toc, toc Oh, chi è? Oh, è lì, è lì, ragazzi Guardate un po' che cos'ho per voi La volete questa chiave? Io ti regalo la balla La balla utile della chiave Sì, aspetta, vado Dannazione Ecui Ok, la chiave ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ragazzi Dove pensai di andare? Quella è la mia chiave È la mia chiave Ok, ok, ok Chiave nostra, chiave nostra ce l'ho No, l'ho ucciso per errore L'ho ucciso per L'hai ucciso per il fucine? Non pensavo si potesse fare Ma dai No, è stato un incide No È stato Ti giuro, non volevo Che cavolo hai fatto? Non pensavo Pensavi Cos'è? Hai ucciso No, scusa Ecco Ecco il regalo Ci ha tirato cose Basta, ecco il vostro regalo Ecco il vostro regalo Gli ho dato il vostro regalo Perché ho ucciso un bambino per lui Non sono una persona Hai ucciso un bambino per me Ecco il regalo Ok, il corvo in sua stanza Quindi trovata Gabi, Gabi Prende Dov'è? 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 Aiuto, aiuto Mamma mia che ansia Che ansia Ok, mai più Mai più Per 50 euro lascio stare la prossima volta Ok Questo era un video abbastanza corto su Secret Neighbor Beh, come ho detto Durato pochissimo Perché avevo poche robe Da poter portare Però è stato divertente Molto divertente Ok Chiamatemi pure Nabbo Non sono riuscito a prendere nessuno Ma l'ho fatto perché Beh Se iniziamo subito a giocare in serio Due secondi di gameplay erano Perché diciamo che giocare come Neighbor Come vicino È abbastanza facile Prendi bambini E 30 secondi hai fatto tutto quanto Quindi era più divertente fare così Fidatevi È molto più divertente Quindi Da inizio ci vediamo alla prossima Se questo video vi è piaciuto Lasciate una bella zampata Sopra il mi piace E noi Ci vediamo alla prossima Aoooo Aoooo A 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 Grazie a tutti.